benvenute nel nostro hotel per la maternità ecco il direttore salve sveglia dormiglione siamo qui signore mi dispiace ma siamo al completo ma si preoccupi posso pagare in oro solo un secondo ecco la tua stanza grazie per la scelta e se pagassi in anticipo allora è fantastico entra ciao anch'io ho bisogno di una stanza e io di soldi tocca la mia pancia questo è sicuramente un futuro milionario grazie troverò una stanza cosa una stanza condivisa che schifo la adoro siamo in tre ma c'è solo un letto voglio parlare con un responsabile c'è solo un letto scusate non ci sono più camere dovrete condividerla io dormo qui il mio bambino è più ricco no questo letto è mio basta ho un'idea spostatevi carate il mio secondo nome fatto ho battuto il letto ora ci sono due letti grazie anthony e io solo un secondo ecco un letto per te wow grazie mille ashley sei pronta a scoprire se è un maschio o una femmina scopriamolo wow che cos'è un bambino d'oro oh sono così felice sei pronta sandra un maschio o una femmina scopriamolo wow cosa dice una bambina sono così felice cos'è questo dammi vedere avrai una bambina oh grazie proprio come volevo oh mi prude la schiena ma non riesco a raggiungerla manager oh mia ora di prendo oh che borranno anthony grattami la schiena oh sì signora oh grazie mi prudeva proprio lì ehi anthony gratta la schiena anche a me ma prima mettiti questi ok ah che bella sensazione anthony gratteresti la schiena anche a me mi dispiace ho solo due mani ho un'idea ho fatto il mio massaggiatore non ho più bisogno del tuo aiuto anthony dammi il mio cibo costoso tutto qui beh grazie immagino che la porzione ricca sia così io cosa prendo? non riesco a scegliere tesoro di cosa hai voglia? il mio hamburger economico è delizioso ha un ottimo profumo lo adoro cosa sta mangiando? cibo spazzatura Dakota possiamo mangiare il tuo hamburger? certo ragazze ne ho altri due buon appetito oh grazie mille è delizioso lo so vero? diamo un'occhiata Ashley il tuo bambino sta benissimo grazie dottore questo è per lei ottimo ci vediamo domani fantastico iniziamo la nostra cerimonia vedo il futuro di tuo figlio ed è incredibile tutti gli organi sono normali ci vediamo con la luna piena grazie mille pronta per l'ecografia no grazie so già tutto sono 20 dollari grazie il prossimo prendo questo potresti fare una scansione al mio bambino? sul serio? ok mi faccia dare un'occhiata non è scaduto oh ed è una femmina congratulazioni grazie ecco 10 dollari non c'è bisogno offre la casa avrei dovuto fare il medico la musica fa bene ai bambini ascolta tesoro questo è un classico ma che fa? suona la mia canzone preferita la donna più ricca avrà il bambino più ricco oh sì bravo hai sentito piccolo? hai la mamma migliore del mondo e chi canterà per il mio bambino? questa canzone è per te le piace? grazie non riesco a dormire senza il mio cuscino per la gravidanza è così comodo un cuscino speciale? anche io ho qualcosa di speciale soldi ora sono comoda sogni d'oro a tutte io non ho soldi ne ho un cuscino per la gravidanza ma ho la mia immaginazione questi pantaloni andranno bene ok pantaloni prima man super comodi davvero comodi buonanotte qualcuno ha visto i miei pantaloni? oh capisco dormi bene da cosa? il mio corsetto preferito non si chiude è tutta colpa del mio pancione Anthony vieni qui e adesso cosa? sono qui ciao puoi aiutarmi a vestirmi? certo che posso aspetta mi alzo no mi sdraio Ashley sveglia ma se mi hai portato? vestiti prima man nuovi di zecca dell'ultima collezione primavera estate oh è fantastico grazie Anthony questo è perfetto non riesco a chiuderlo manager si signora wow è perfetto mi piace molto ci sono i miei soldi lì grazie goditelo pure è così comodo non è affetto stretto grazie dai abbottonati perché il mio bambino deve essere così grande? oh Anthony mi aiuti che sfortuna oh ho un'idea ma che fai Anthony? ecco provala ancora perfetta si abbottona grazie Anthony mi hai salvata sono stufa delle riviste Anthony portami una tv si signora grazie vieni qui Anthony uff non ho contanti ecco prendi il mio bracciale di diamanti la mia pancia sta diventando una montagna manager che c'è? il mio portatile continua a cadere un momento lo tengo io grazie Anthony ecco a te oh hai visto quell'episodio dove posso mettere il mio telefono ecco a che serve il mio pancione perfetto e posso anche tenere un piatto di snack guarda cosa ho comprato per il mio piccolo tutto il meglio per lui ma certo pronto? consegna? ho un ordine urgente ecco i tuoi articoli oh grazie ecco il guardaroba di mio figlio è tutto firmato appena uscito da una piccola passerella io non ho niente non sto guardando bella maglietta ma mi serve una taglia più piccola e un'impostazione più calda fantastico ecco una maglietta per il mio piccolo signore alzatevi è il giorno del parto sbrigatevi cosa? ok dottore forza il mio ricco tesoro la mia ragazza d'oro ma mamma ti ama Anthony aiutaci eh sì arrivo ciao Anthony tieni il mio bambino è il mio è il mio cosa? ok zitti piccoli zio Tony sta per mettere su un video interessante per voi è già ora di svegliarsi oh no sono in ritardo Claire dobbiamo andare non c'è bisogno di affrettarsi ma non arriveremo in tempo idea allarme antincendio fuoco ma dove andate? la festa è finita salvami ho una sorpresa abracadabra ti piace? un altro anello siamo in ritardo va bene arrivo e io finalmente è arrivato il momento cosa stiamo aspettando? beh l'eredità va a aspetta ma siete in tre pensavo che ci fosse solo un'ereditiera comunque sia tutte ricevono una busta evviva la nostra eredità non vedo l'ora di vedere cosa c'è dentro sono curiosa anch'io una vecchia maglietta davvero? wow il mio lavoro qui è finito wow con tanti sono piena di soldi sfigata il mio sogno si è avverato posso fare un tuffo nel denaro spazzatura perché? un po' di cereali wow una colazione a base di diamanti li voglio anch'io con tanti cosa? e a me? dov'è il mio regalo? sì un messaggio che cos'è? riprova non è possibile è la vita fa così caldo tiktok potrebbe distrarmi un po' tiktok non è più lo stesso ultimamente idea no questo sì mi piace la mia macchina fotografica sta girando la musica scorre sono soldi? tieni potresti averne bisogno tieni anche il resto wow una miniera d'oro oggi è un'ottima giornata per rilassarsi in riva all'oceano con un tappetino dorato ci sto insieme al mio tappetino di soldi ah sì il mio tappetino sarà fatto di sabbia ma questo è ridicolo wow il bagnino è così sexy ciao questo è per te un salvagente d'oro grazie non me lo aspettavo ah sì anch'io ho un regalo ehi prova questo esclusivo giubbotto di salvataggio è unico del suo genere grazie che giornata visto? i regali sono piuttosto pesanti come faccio ad attirare la sua attenzione? lo so ehi non vedo così lontano ti serve un binocolo? wow ora sì che si ragiona sono felice di averti aiutato aspetta mi serve il tuo aiuto ora posso vedere tutti quelli che nuotano davanti alle boe è ingiusto oh no il mio pranzo è rovinato come faccio a liberarmene? lo so questo sarà un tovagliolo dritto nella spazzatura cosa? qualcuno ha davvero buttato via dei soldi? ora sono miei il mio gelato al cioccolato preferito ops fortunato il gelato è il sicuro missione compiuta grazie non si accorge mai di me un drink per favore ciao questa è per te una bevanda rinfrescante questa bevanda è ancora più buona prego grazie la bevanda è stata una mia idea no non lo è non riesci a pensare a nulla da sola ehi quel drink è per me questo? no sto lavando i piatti va bene è così carina la mia fortuna è ora di andare a letto questa è la mia occasione allarme? che diavolo è quello? sto vedendo qualcosa un altro fatene fuori l'ho cacciato sogni d'oro per me ci è mancato poco un telefono? grosso errore conosco il kung fu non c'è bisogno di arrabbiarsi ecco il tuo telefono e un po' di soldi per rimediare poverina quella ragazza sta annegando ti salvo io il salvagente è brutto è ridicolo un salvagente? ti devo un favore scusa è un salvagente di salvataggio e nuoterò solo un po' certo nessun problema ehi lo sto annegando non è così profondo mio salvatore portami a riva il vestito più costoso è tutto mio quello vecchio è spazzatura uno splendido vestito nuovo questo va nel cassonetto wow che prezzi folli è ancora indossabile perché pagare di più? uno due tre chi è quella persona nella foto? questa io e le mie sorelle abbiamo fatto un concorso una volta e ho vinto allora tu dove sei? ero in ritardo e ho dimenticato le scarpe però ho trovato delle bottiglie e ho fatto delle scarpe super eleganti e ho preso la corona brava è una storia commovente ma devo andare i vincitori del concorso ricevono dei premi carte di credito d'oro e argento e abbiamo una carta di cartone dovete nuotare il più velocemente possibile la vincitrice riceverà il premio tutti pronti? sì sono pronta via perché sei ancora qui? vai che velocità è uno squalo aiuto aiuto dovremmo tornare indietro ad aiutare ma il premio ci aspetta neanche per sogno Tom ti salvo io via da qui squalo wow sei così coraggiosa siamo arrivate prime questi premi sono vostri congratulazioni ecco la vera vincitrice si merita il premio ok ma è tutto quello che è rimasto sapevo che avresti vinto siamo tornate siete qui ho fatto un po' di confusione cosa? dovreste scambiare il contenuto delle buste sono ricca? è io no hai ancora i tuoi soldi ma è giusto non voglio essere al verde non lo sarai non ne ho bisogno ma dov'è andata? ciao Tom ciao questo è per te è romantico lo ha davvero non smetterò mai di consegnare la pizza devo consegnare la pizza in tempo oh no tutto tranne questo la moto non parte ciao Mary sorellina salta su ti do un passaggio Claire tempismo perfetto niente pizza in macchina entra nel bagagliaio ok aspetta Claire fai più attenzione siamo i re della strada spero di arrivare tutta intera cosa è quel cartello laggiù? una scorciatoia prendiamo quella strada ok ops perché non ci muoviamo? la macchina non parte ma che succede? non ne ho idea si rifiuta di partire fine della storia forse dovremmo strofinare i fari magari una spinta? no ecco un'idea guarda qui vai a prendere i soldi forza vieni da me Claire la macchina non si muove what? perché il serbatoio è vuoto non è un problema ecco ora è pieno oh Claire sì prende pronto? 9-1-1 oh no ho finito i minuti passimo tempismo Claire che stai facendo? dobbiamo chiamare il 9-1-1 oh no la batteria è morta perché sei così stressata? ho fame meno male che c'è la pizza giù le mani l'ha ordinata qualcun altro e la consegnerò sta facendo freddo qui dovremmo passare la notte qui sbarazziamoci di tutta quella spazzatura Mary aiutami posso chiedere a te di pulire questo è tu io dormirò qui no qui è dove andrà la lampada ok allora qui no lì ci andrà il tavolo what? oh che ne dici di dormire fuori? bene bye bye mi costruirò il mio postoletto oh così bello wow anch'io voglio una tenda ma sto fallendo alla grande perché stai piangendo? la tua capanna è andata in pezzi? ops neanche la mia è rimasta in piedi non ti abbattere vuoi un po' di pizza? no ho un'idea migliore voglio una stanza segreta a due piani nel furgone wow mi sembra un buon piano iniziamo a costruire la struttura è pronta io andrò sopra e tu sotto wow è davvero fantastico ho la mia schiena non riesco a dormire qui ecco un'idea metterò un materasso e una coperta morbida ora è fantastico e io userò dell'erba morbida per sostituire il materasso è perfetta ed è ecologica un grande affare dovrei decorare il mio pavimento questo tessuto andrà bene l'oro è il mio preferito wow anch'io ho un'idea costruirò una capanna di bambù e una tettoia per proteggermi dal sole e dal vento ecco è per me wow grazie sorellina soldi in cambio della pizza no non esiste consegnerò questo ordine ad ogni costo fai schifo che senso hanno i soldi se non posso nemmeno comprare una pizza lo so li userò per decorare la mia stanza segreta una sfilza di soldi è così chic aggiungiamo delle decorazioni ecologiche l'oro è molto più bello wow più oro c'è meglio è resta umile questo è il mio motto il mio progetto sarà ecologico cos'altro dovrei aggiungere? fiori freschi comprate dei fiori freschi è quello che mi serve prendo un bouquet sono 5 dollari ma non ho soldi ecco a te ora puoi pagare ne prendo 3 scegli 1 2 3 che profumo fantastico i fiori la rendono più accogliente queste pietre sono così belle ho un'idea le renderò ancora più belle un po' di vernice trasforma le pietre in un cactus wow anch'io le voglio ma trasformerò le pietre in un candeliere d'oro il nero e l'oro sono una nuova tendenza cosa c'è in questa borsa? gomitoli di lana avvolgi il filo in questo modo e fissalo al centro poi taglierò i bordi e farò un bel pom-pom e le metterò in fila saranno sufficienti per rendere il mio spazio adorabile io preferisco le decorazioni eleganti e quelle dorate sono perfette preparerò un'area lounge accanto alla capanna c'è spazio sia per i cactus che per i fiori è l'ora del tè ho trovato il nostro vecchio servizio da tè Mary, vieni qui arrivo latte e niente zucchero il tuo preferito mignolino in fuori l'hai dimenticato? è questo usi una tanica come tavolo Claire! la macchina è partita stiamo andando evviva! ma che succede? finalmente! la tua pizza scusa se ti ho fatto aspettare ci siamo perse e poi abbiamo finito la benzina wow! che bel pick up! vorrei acquistare questa idea dimmi il tuo prezzo oh! neanche per sogno tieni i tuoi soldi Claire! ce ne andiamo! ciao! 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 ciao!